Adesso facciamo un pezzo che è in inglese, in inglese un po' particolare, in inglese napoletanizzato, si chiamano We're Men. We're Men, where are you going? You need a girl tonight. Come on with me, my, my, my. You will enjoy your time. You won't get all last to me. Come on with me, my, 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 my. Come on with me, my, 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 my. You won't get all last to me. Come on with me. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.